C'è stato il problema della squalifica, quindi sono rimasto un po' in silenzio, anche altri problemi, ho preferito cercare di star tranquillo e concentrare sulla squadra. Penso che adesso sia il tempo del bilancio di questo 2015 passato e sotto l'aspetto tecnico dobbiamo dire che per me è stato un anno molto positivo, sia all'inizio che anche alla fine, perché abbiamo sempre cercato di essere all'altezza della situazione, abbiamo lottato ogni partita, penso che possiamo sicuramente rimproverare qualcosa, però è meglio mettere la lente di ingrandimento sulle cose positive che abbiamo fatto. Adesso nel 2016 con questo mercato si deve sempre cercare di migliorare, questo è stato sempre il mio obiettivo, l'obiettivo della società da quando sto qua a Teramo, quindi adesso c'è la possibilità di un mercato e penso che la società stia cercando di lavorare sempre con questa ottica, di andare a colmare certe lacune e cercare di essere più competitivi nel girone di ritorno. L'input che ho dato alla società è questo, cioè chi è che non sta bene a Teramo, chi è che è triste, chi è che non accetta la situazione, i problemi di Teramo, è giusto che venga messo sul mercato, perché è chiaro si guarda intorno, si vede un pochettino le possibilità che ha a disposizione perché nel momento in cui chiude il mercato e rimane a Teramo deve lottare con grandissima umiltà, grandissima applicazione, che giochi, non giochi, che vada in tribuna, che sia in panchina, però dobbiamo essere un gruppo solido, unito, questo è uno dei problemi, diciamo, che una squadra può avere e quindi siccome c'è stato delle forzature all'inizio di quest'anno, adesso c'è il momento che magari dobbiamo appianare questo aspetto mentale e quindi tutti concentrati e tutti sul pezzo per cercare di fare un girone di ritorno all'altezza della situazione.